La bandiera del Veneto c'è, c'è fuori dal comune di Cismon, c'è fuori dall'Unione Montana Valbrenta. Francamente da me c'è sempre stata, nel senso che io l'ho trovata, non mi ha mai dato fastidio, anzi sono orgogliosamente Veneto e quindi penso che la stessa Costituzione riconosca il valore delle regioni. Luca Ferrazzoli, sindaco di Cismon del Grappa e presidente dell'Unione Montana Valbrenta, lui, amministratore di centro-sinistra, spiega così la scelta di esporre dal suo comune la bandiera di San Marco. Io la espongo non in forza di un dovere, ma in forza di un piacere, che è quello di sentirsi profondamente veneti. Insomma, l'appartenenza politica per una volta non c'entra. Quando vedo la bandiera veneta la sento mia prima di qualsiasi altra cosa, mi sento italiano, mi sento veneto, poi i partiti vengono dopo. La bandiera non si tocca, nemmeno se è il governo ad impugnare la legge regionale che obbliga gli uffici pubblici ad esporre il leone. Tra meno di una settimana usciremo con le nostre telecamere pronti a verificare quali amministratori sceglieranno di rispondere al volere di Roma piuttosto che a quello dei Veneti.